Benvenuti a questo nuovo ciclo di esplorare i confini. Qual è il significato di questa insistenza, vi chiederete voi? Il significato è quello di mostrare proprio come nel momenti più difficili, bisogna saper fare affidamento sulla propria creatività e spirito d'iniziativa. Questa è stata la nostra scelta, in un momento di crisi come quello dettato dalla pandemia, rilanciare un discorso più ampio e innovativo. Quindi questa nuova serie vi accompagnerà per tutta la primavera e nei mesi finali di questa crisi sanitaria. Bene, si inizierà parlando del Carnevale di Fano, della sua storia secolare, poi si toccheranno temi come le onde gravitazionali, l'origine della vita nel cosmo, la vita e l'arte di un grande musicista John Cage, di Nietzsche e di Wagner, di Domenico Modugno, di Fake News e della salute di Gacciaiai Alpini, dell'arte giapponese e del suo influsso sulla pittura europea dell'Ottocento. Vi invito quindi ad ascoltare, a partecipare e se il discorso portato avanti vi piacerà, a collaborare con il Circolo Biantini e sulle sue iniziative. Buon ascolto a tutti e arrivederci a presto. Salve a tutti, io sono qui per la rubrica Esplorare i confini, un'attività culturale promossa dal Circolo Culturale Bianchini di Fano e oggi vi voglio parlare di esopianeti, cioè di pianeti, di mondi cosiddetti alieni e vi voglio portare a conoscere i nuovi mondi che abbiamo scoperto, questi mondi anche di lava, questi mondi un po' particolari, ma prima di fare ciò devo partire un po' dalle origini e quindi vi voglio raccontare come siamo arrivati a scoprire questi esopianeti e come si è arrivati a questa scoperta di questi mondi così estremi, così diversi da quello che noi conosciamo, così diversi dalla Terra per le caratteristiche, ma molto simili poi per le dimensioni o la massa. Ma partiamo dall'origine, l'origine è il nostro sistema solare. Vedete qui una rappresentazione del sistema solare a palloni colorati, qui c'è il Sole, poi ci sono quattro pianeti interni, in tutto abbiamo otto pianeti nel sistema solare, quattro pianeti interni che sono rocciosi di tipo terrestre e piccoli, qui le dimensioni ovviamente non sono in scala perché rispetto a Giove la Terra sarebbe un puntino minuscolo che non vedeste nemmeno e Giove sarebbe molto più piccolo di questo pallone rispetto al Sole, quindi le dimensioni non sono quelle vere ma altrimenti non riuscirei a farvi vedere il sistema solare intero. Quindi dicevo quattro pianeti rocciosi interni vicino al Sole e sono Mercurio, Venere, la Terra con la Luna e Marte anche se in realtà altri pianeti del sistema solare hanno le loro lune. Tra Marte e Giove c'è una cintura di asteroidi, molti la chiamano un pianeta mancato e poi ci sono quattro sistemi pianeti giganti che sono Giove, Saturno, Urano e Nettuno e qui c'è questa piccola palla. Questa piccola palla chi è? È Plutone che finché io andavo a scuola era ritenuto un pianeta del sistema solare e quindi ne avevamo nove. Ma proprio grazie agli studi di planetologia e di esoplanetologia abbiamo capito che questo non è un pianeta nel vero senso della parola, cioè non si è formato come questi pianeti, ma in realtà non vive da solo nella sua orbita, condivide la sua orbita insieme a Caronte e fa parte di oggetti transnettuniani, cioè oltre l'orbita di Nettuno, nella parte più esterna del sistema solare, dove si trova questa cintura che si chiama cintura di Kuiper. Oltre alla cintura di Kuiper c'è ancora spazio nel sistema solare, c'è la nube di Hort che si estende molto e da questa nube di Hort di solito voi osservate queste comete che ogni tanto ci vengono a trovare come quest'estate. Quindi dicevo, il sistema solare è composto da otto pianeti e noi abbiamo questa grandissima divisione tra pianeti rocciosi interni e pianeti gassosi esterni. Fino al 1995 si pensava che questo fosse, diciamo, lo standard alle nostre teorie che potevano spiegare come si formavano i sistemi solari erano basati sull'unico sistema solare di cui avevamo conoscenza, il nostro. Nel 1995 Didier-Kelot e Michel Mayor, due scienziati svizzeri, uno professore, Michel Mayor, e Didier-Kelot, il suo studente di dottorato, hanno scoperto il primo esopianeta, 51 Pegasi b o 51 Pegasi b. Ma che cosa è stata questa scoperta? Non tanto che già di per sé è eclatante scoprire un pianeta che abita, orbita e abita in un sistema fuori dal nostro sistema solare, già questo di per sé è stata una scoperta eccezionale. Ma questa scoperta ci ha fatto capire che la nostra conoscenza del sistema solare, le nostre teorie, tutto l'ambaradan che costruiamo per capire come possono funzionare questi sistemi era praticamente sbagliato. Perché? Perché questo 51 Pegasi b è un pianeta di tipo gioviano, quindi più o meno di queste dimensioni, in realtà un po' più piccolo di Giove, ma invece di orbitare come Giove nel sistema solare orbita in un lontano dal Sole, noi lo troviamo ad una distanza di quattro giorni e mezzo rispetto alla stella madre. Cosa vuol dire? Che se Mercurio, che da noi è il più vicino, orbita con un periodo orbitale, cioè il suo anno è 88 giorni, questo pianeta, 51 Pegasi b, ha un anno che dura esattamente quattro giorni e mezzo. Quindi questo pianeta orbita così vicino alla sua stella che soffre di quello che si dice tidal locking in inglese o comunque di forze di marea che fanno sì come nel sistema Luna-Terra, che questo oggetto ruoti offrendo sempre la stessa faccia alla sua stella, ok? Proprio perché è così vicino, ma non solo. Essendo così vicino, la radiazione che subisce dalla stella cambia drasticamente la composizione di questo gas che voi osservate intorno al pianeta Giove, per esempio. Ci sono dei pianeti ai quali ho collaborato per la scoperta utilizzando determinati telescopi, per esempio uno in particolare WASP-12b o WASP-17b, che sono addirittura grandi come due volte una stella, ok? Però sono dei pianeti. Quindi questa prima scoperta ha proprio schiaffeggiato in faccia tutti gli scienziati e ha aperto questo nuovo filone dell'astrofisica che appunto è l'esoplanetologia, cioè piuttosto che lo studio dei pianeti del sistema nostro di altri sistemi. In questi 25 anni abbiamo scoperto oltre 4.300 pianeti, ma quello che più ci ha sconvolto è la diversità di questi pianeti. C'è una degenerazione, così viene detto, cioè per la stessa massa di un pianeta come Giove si osservano delle dimensioni che vanno da un terzo la dimensione di Giove appunto a due volte la dimensione di Giove. Ma com'è possibile questa diversità? Noi non abbiamo nel nostro sistema solare una contezza di questa diversità. Non solo. Man mano che la tecnologia avanzava in questi anni e man mano che il nostro studio, la nostra ricerca progrediva, siamo stati in grado prima di scoprire gli oggetti quelli più grandi come Giove. Questo è semplicemente per un bias diciamo cosa significa l'incapacità nostra di poter rilevare con i mezzi che avevamo a disposizione oggetti più piccoli. Ora invece che abbiamo spedito satelliti fuori dalla Terra e quindi non abbiamo più questo impedimento che è dovuto all'atmosfera terrestre, siamo in grado di scoprire dei pianeti che sono di queste dimensioni e quindi parliamo più di pianeti tipo casa nostra. Molto più interessante per noi perché alla fine dei giochi quello che vogliamo sapere è se può esistere un'altra Terra. E qui si apre tutto un mondo. Però la prima cosa scioccante che abbiamo imparato osservando i dati satellitari è che la maggior parte oltre il 75, l'80% degli esopianeti scoperti in altri sistemi ha una massa e una taglia che stanno tra la taglia della Terra, ok, e quella di Nettuno. Noi astronomi, astrofisici siamo un pochino nerd, ci piacciono molto questi nomi strani, ci piace dare questi nomi, ok, queste nomenclature per definire questi oggetti. Li abbiamo chiamati Super Terre, Super Earth e Mini Neptune, Mini Nettoni. Cosa significa? Che abbiamo trovato l'80% dei pianeti scoperti si trova con una dimensione, una massa tra questi due oggetti del Sistema Solare. Bene, nel nostro Sistema Solare non abbiamo un equivalente di questi oggetti. Quindi nel nostro Sistema Solare non abbiamo quelli che sono i pianeti più comuni fuori dal nostro Sistema Solare. E già qui poniamo una gran differenza rispetto al nostro Sistema Solare e ad altri sistemi solari. La stragrande maggioranza di sistemi che hanno un oggetto, un pianeta grande come Giove o come Saturno, li troviamo con questi pianeti orbitanti vicinissimi alla loro stella e per lo più in solitaria. Cosa significa? Che in questi sistemi la maggior parte di questi oggetti che vengono chiamati gioviani caldi, caldi perché stanno vicinissimi alla loro stella, hanno praticamente eliminato il resto dei pianeti. Noi questo piano piano l'abbiamo capito. Come? Perché per formare un oggetto grande come Giove bisogna che questo pianeta si formi ad una determinata distanza dalla sua stella. Perché? È semplice per avere la possibilità di avere nel disco che si forma quando si forma la stella, disco di materia, di polvere e di gas, avere abbastanza gas per formare questo sviluppo così chiamato di gas intorno al pianeta. Se noi siamo vicino al Sole questo gas viene evaporato. Quindi sappiamo sicuramente che questi oggetti grandi come Giove, come Saturno, si sono formati distanti dalla loro stella. Ma allora? Com'è che noi lo troviamo qua, questo pianeta? Com'è fatto ad arrivare qua? Abbiamo dovuto trovare un escamotage, creare una teoria e poi verificare se questa teoria fosse vera. E in parte è un campo tuttora molto in discussione perché non abbiamo la prova provata che questi meccanismi funzionano. In realtà adesso c'è nella scoperta proprio dell'altro ieri, di questi, non so se avete letto sui giornali, che è stato scoperto un sistema planetario in cui ci sono cinque pianeti che sono in stretta risonanza. Ok? Quindi orbitano tutti in modo molto, come dire, armonico l'uno con l'altro. Se potessimo tradurre il loro moto in musica sarebbe un'armonia, ok? Andrebbero tutti d'accordo l'uno con l'altro. E questo, perché è fondamentale fare queste scoperte? Perché ci fa capire che il modo in cui questi pianeti si sono formati e poi hanno migrato facendo un balletto tra il pianeta e il disco che ancora c'è all'inizio quando la stella si sta formando, per viscosità piano piano si muovono verso l'interno e occupano delle orbite più vicine al loro sole. Facendo questo discorso, ovviamente, senza entrare nei dettagli della teoria, è più facile avere dei pianeti che, diciamo, si trovano in delle orbite che sono armoniche l'una con l'altra. Però, quando c'è un oggetto grande come questo, che piano piano si infila nella parte più interna del sistema solare, cosa fa? Ha un effetto devastante per i pianeti più piccoli, se esistono. Cioè, li proprio li manda via facendo degli scontri come tra le bocce del biliardo. Quindi, questi pianeti, se esistevano, sono stati espulsi o distrutti, come si pensa per la cintura degli asteroidi tra Marte e Giove, da questi oggetti massicci. Quindi, quando noi osserviamo questi gioviani caldi, osserviamo che questi sistemi hanno soltanto questi oggetti giganti e raramente, raramente, hanno degli esopianeti più piccoli di tipo terrestre. Ma allora dove sono questi 80% di pianeti di tipo terrestre? Dove li troviamo? Bene, li troviamo intorno a delle stelle più piccole del sole, meno forti in termini di emissione, si chiamano nane rosse, e intorno a queste nane gialle e rosse troviamo una varietà infinita di questi pianeti di tipo roccioso, e ce ne sono tanti, e per la maggior parte vivono in sistemi multiplanetari. Cosa significa? Dove ci sono più pianeti, e sono molto compatti, quindi molto vicini l'uno all'altro, e anche le loro orbite sono piatte, cioè rispetto a come ruota la Terra, ruotano in un piano che sta a 90 gradi, esattamente così, ok? Rispetto al Sole che ruota, i pianeti si dispongono su un piano come quello del tavolo. Questo perché è importante? Perché in realtà quando si formano i pianeti, c'è una serie, ci sono una serie di, come posso dire, proprio di contatto pianeta pianeta, di scatter, proprio di, come nelle bocce vanno incontro l'una all'altra per motivi di instabilità, mentre si stanno formando i sistemi planetari, proprio perché i pianeti hanno la libertà di muoversi ancora, ok? Non sono fissi nella loro, nella loro orbita finale. E questo, ci sono diversi modi di farlo, questo procedimento, quindi dalla creazione ha poi l'evoluzione di questi sistemi e alcuni di questi metodi prevedono un'inclinazione, quindi che non si trovino su questo, sulle orbite su questo piano, ma siano inclinate con un determinato angolo. Bene, il fatto che questi pianeti invece siano con delle orbite con inclinazione bassissima serve per capire e per mettere dei paletti a queste teorie che vi dico ancora sono in completa evoluzione, anche perché, per esempio, riusciamo a spiegare come questi oggetti migrano verso la stella, ma mica sappiamo per quale meccanismo esattamente si fermano e non cadono sulla stella. Per esempio, osserviamo che la maggior parte di questi oggetti si ferma su un periodo orbitale, quindi il loro anno dura tre giorni e mezzo, quattro. Ecco, la maggior parte di questi oggetti ha questo periodo qua, ma ci sarà un motivo fisico, però ancora non siamo in grado di spiegarlo nel dettaglio perché si fermano a questa distanza. Ora, quindi, perché è importante studiare questi esopianeti? Perché ci insegnano anche la nostra storia. Infatti, del 2011 è, per esempio, questo bellissimo articolo che spiega come il balletto all'interno del sistema solare tra Giove e Saturno ha reso possibile la formazione del sistema solare e il mantenimento di questi pianeti rocciosi interni. E quindi noi siamo ancora qui grazie a questo bellissimo balletto che Giove e Saturno hanno fatto. Cioè, Giove si stava avvicinando al Sole e avrebbe distrutto tutti i pianeti interni, ma poi si è formato Saturno che ha incominciato ad attrarre Giove all'indietro e l'ha riportato ad un'orbita più distante, fondamentale per l'esistenza nostra e della nostra Terra. Quindi, finora cosa abbiamo capito? Che la maggior parte degli esopianeti che abbiamo scoperto non assomigliano ai pianeti che noi abbiamo nel sistema solare. Nel sistema solare non esiste la maggior parte degli esopianeti, il tipo di classe di esopianeti ha scoperto che sono di questo tipo, no? Un po' più grandi della Terra ma più piccoli in natura, da noi non ne abbiamo. Non solo non abbiamo gioviani caldi, non abbiamo oggetti grossi vicino alla stella e in più il Sole è una stella singola, mentre tantissime stelle, oltre il 70%, in realtà vivono in sistemi binari o multistellari. Quindi siamo, in qualche modo, un pochino diversi. In questi ultimi, proprio negli ultimi 4-5 anni, c'è stato uno sviluppo ancora ulteriore delle nostre capacità, sia tecnologiche che grazie agli studi fatti di ricerca, di poter scoprire, capire questi sistemi. Per esempio, abbiamo capito che ci sono dei motivi per cui noi osserviamo questi 80% di pianeti di tipo piccolo tra la Terra e Nettuno e che sono così diversi tra loro perché questi pianeti, se sono meno densi e quindi hanno più atmosfera e meno massa nel loro cuore, in realtà soffrono tantissimo la perdita di atmosfera dovuta alla radiazione della stella, se sono vicini, mentre quelli di tipo più roccioso, cioè più densi, come la Terra e Mercurio, ne soffrono di meno. C'è proprio quella che viene chiamata una vallata dell'evaporazione all'interno della quale proprio si osserva la mancanza di questi oggetti. Quindi abbiamo capito che in realtà la posizione in cui si formano, il modo in cui evolvono, come arrivano vicino a stella è fondamentale poi per arrivare in fondo ad avere dei pianeti come la Terra o dei pianeti come Nettuno o addirittura dei mondi di lava, che è quello di cui vi voglio parlare. I mondi di lava sono dei mondi estremi. Questi mondi estremi ce ne sono diversi tipi. Perché mondi di lava? Vi faccio un esempio. Giove ha una delle sue lune, si chiama Io. Io è in un'orbita tale che sente così tanto l'attrazione mareale, quindi gravitazionale, che lo distorce questa luna tantissimo, così che è in continua evoluzione vulcanica. Io rispetto al sistema solare è uno degli oggetti più luminosi se osservato negli infrarossi. È così attivo che è uno degli oggetti più luminosi, più luminosi di tutti gli altri pianeti negli infrarossi. Questi pianeti estremi che siamo stati capaci di scoprire adesso, grazie all'avanzamento tecnologico e ai satelliti che abbiamo lanciato, sono di tipo roccioso perché quelli stiamo cercando, perché vogliamo imparare di più su casa nostra. E abbiamo capito che, per esempio, esistono questi pianeti che sono stati completamente depauperati della loro atmosfera per la radiazione. Quindi sono esposti la loro parte più interna, il loro cuore. E questo cuore può avere appunto un mondo di lavo, addirittura può stare così vicino alla sua stella che le parti superiori del suolo, insomma di questi pianeti, è completamente strappata via dalla potenza della stella. Pianeti proprio che evaporano. Noi vediamo questi pianeti che evaporano. Quindi intorno al sistema, se volete, pianeta che evapora stella, si forma una nuvola di materiale e gas che ricopre l'intero sistema pianeta e stella. Una professoressa dell'Università, della Open University in Inghilterra, che conosco bene, con la quale ho collaborato per la scoperta di esopianeti per il progetto WASP. Grazie a queste osservazioni si è inventata un nuovo modo di scoprire esopianeti di tipo piccolo, roccioso e terrestre, questi pianeti estremi. L'anno scorso, proprio a dicembre del 2019, ha pubblicato questi articoli dove ha scoperto questi nuovi esopianeti di tipo estremo. Ma perché, voi vi chiederete, è importante studiare dei pianeti che evaporano? Alla fine sono così diversi dalla nostra stella stabile, no? Dalla nostra terra stabile che abita in una zona intorno al nostro sole che viene proprio chiamata zona abitabile. Cioè, che cos'è? La zona abitabile non è nient'altro questa zona di temperatura a distanza dal sole che rendono possibile di avere l'acqua liquida sulla superficie del pianeta che io sto osservando. Ovviamente casa nostra è l'esempio classico, ok? Venere e Marte stanno agli estremi di questa zona. Bene, questi pianeti estremi sono vicinissimi alla stella, quindi perché? Perché non sono nati in quel posto lì, ma ci sono arrivati, ok? Come si fa ad arrivare ad una distanza dalla Terra? Pensate, c'è un pianeta il cui anno solare, per fare un paragone con la nostra stella dura quattro ore e mezza, quindi un anno dura quattro ore e mezza, per noi un anno dura 365 giorni, ok? Per Mercurio dura 88 giorni, quindi ogni quattro ore e mezza questo pianeta compie un anno nuovo. Questi oggetti però non sono appunto nati lì, quindi sono importantissimi per mettere quei famosi paletti di cui parlavo prima, a queste bellissime teorie che cercano di spiegare tutti i sistemi che noi osserviamo. Questi pianeti quindi sono fondamentali, ma non solo. Grazie a questa loro caratteristica per cui evaporano questi elementi superficiali, ok? Dei pianeti, addirittura osservando la luce che proviene poi dalla stella che è coperta da questa nuvola di materiale e di gas, noi addirittura possiamo sapere che materiale è quello che compone questi pianeti, cosa che non possiamo fare neanche per i pianeti del nostro sistema solare. Quindi questo apre delle potenzialità pazzesche, ok? Di sapere esattamente quali minerali, quali composti ci sono in questi pianeti. sono di tipo terrestre, come il silicio per esempio, eccetera? Oppure sono diversi? Com'è la loro struttura? Perché è importante studiare questo? La maggior parte dei pianeti che noi abbiamo scoperto, li abbiamo scoperti con due metodi particolari. Uno è quello, diciamo, si chiama effetto Doppler ed è quello che voi avete probabilmente sentito migliaia di volte dell'avvicinamento dell'ambulanza e dell'allontanamento. Voi se osservate, sentite bene, ci sono due tonalità diverse, ok? Di quando l'ambulanza si avvicina rispetto a quando si allontana. Semplicemente per questo effetto, noi usando delle leggi vecchissime, perché usiamo la terza legge di Keplero, che sono state fatte praticamente in età che questi globi sono stati creati qua dietro, tra il 1500 e il 1600. Grazie a queste leggi riusciamo a misurare la massa, proprio a pesarli come se fosse una bilancia, ok? Perché? Facile. Perché la stella e il pianeta si muovono rispetto a un centro di massa. Quindi, sapendo il movimento, riuscendo a misurare questo piccolissimo movimento che dà origine a quella diversità di tonalità, come nell'ambulanza, io riesco a sapere la massa dell'oggetto che mi fa muovere la mia stella. Bene, quindi peso con una bilancia, il mio pianeta. Ora, l'altro metodo fondamentale che rappresentano questi due insieme, il 97% di tutti i pianeti scoperti è tramite questi due metodi, utilizza semplicemente una sovrapposizione geometrica. Ora vi faccio vedere un esempio. Quando voi avete visto, per esempio, il transito di Venere davanti al Sole, esattamente lo stesso principio. Cosa succede? Quando il pianeta si allinea tra voi, la vostra visale, e la stella Sole, fa sì che la luce della stella che voi vi arriva diminuisca esattamente di una proporzione pari al diametro di questo oggetto che gli passa davanti. Se prima era 10, sarà 10 meno la proporzione che ha perso dovuto all'oscurità del pianeta. Questo ci permette di sapere la taglia. Taglia e massa, per chi si ricorda dalle scuole, dà la densità, perché posso sapere il volume e la massa di questi oggetti. La densità che cosa mi dice? Mi dice che ho un pianeta roccioso perché ho un'alta densità come per Mercurio o la Terra, oppure una bassa densità, cioè ciò più che altro gas, e della massa in parte interna ma in minore quantità rispetto ai gas. Quindi noi cosa possiamo sapere di questi pianeti? Tantissime cose. Possiamo incominciare a capire come sono formati e qual è stata la loro evoluzione verso la posizione di cui noi li osserviamo oggi. Possiamo sapere la loro taglia e la loro massa e quindi capire qual è la densità, che tipo di materiali possono comporre questi pianeti perché esistano in quella posizione con quelle caratteristiche e una volta che io so la loro densità e la loro distanza dalla stella e altre caratteristiche posso immaginare il tipo di atmosfera che possano avere. Ok, un'atmosfera sottilissima come quella terrestre, infatti c'è un pianeta roccioso, o un'atmosfera vastissima come quella di Giove. Ok, tantissime misurazioni sono state fatte dell'atmosfera di questi pianeti sempre usando il metodo di transito. Io mi metto così rispetto alla mia stella e quando il raggio luminoso attraversa l'atmosfera del mio pianeta io posso sapere quale elemento c'è dentro l'atmosfera del mio pianeta. Ok? Quindi questo tipo di studi è importantissimo. Unito a questi pianeti estremi che mettono dei paletti fondamentali alle nostre teorie ci permettono di capire come si sono formati, come hanno fatto il loro percorso evolutivo, che tipo di materiali li compongono. Per esempio noi abbiamo scoperto dei pianeti così densi che pensiamo debbano essere composti soltanto di ferro. Ecco, questo per esempio per la nostra teoria è una cosa che non funziona. per questo stiamo cercando proprio di capire se questi pianeti possano mai esistere o sono il rimanente di qualche cos'altro, per esempio dopo uno scontro, no? Come è avvenuto per la formazione della Terra e della Luna. Quindi il campo degli esopianeti ci ha regalato in 25 anni una rivoluzione di pensiero drastica direi. Ha cambiato completamente la nostra posizione nell'universo, ha cambiato completamente la posizione del pianeta Terra come classe all'interno della classe degli esopianeti, degli pianeti in generale che noi conosciamo. Appunto il sistema solare abbiamo capito che non è proprio la norma di quello che osserviamo. Siamo piuttosto una eccezione. Non è così facile trovare un sistema planetario come il sistema terrestre. Quindi ancora è un campo in piena evoluzione. dicevo questa scoperta di questi pianeti rocciosi fatta da un satellite Cheops dell'ESA di cui c'è una fortissima partecipazione italiana e nel 2026 per esempio partirà un nuovo satellite sempre dell'Agenzia Spaziale Europea che si chiama PLATO e sarà dedicato proprio allo studio di questi pianeti, ma non di pianeti in generale, lo scopo sarà di trovare un pianeta come la Terra alla distanza in cui la Terra si trova dal Sole. Quindi trovare proprio un equivalente terrestre. Badate bene che molto spesso sentite sui giornali abbiamo trovato un pianeta come la Terra. Non è vero. Oggi come oggi non c'è un analogo terrestre. Quando vi dicono che hanno trovato un pianeta come la Terra significa che hanno scoperto un pianeta di dimensioni simili alla Terra che orbita nella zona abitabile rispetto alla stella madre. Ma questa stella può essere più piccola, questa zona abitabile può essere molto più vicino alla stella e questa stella quindi può avere un'influenza anche negativa perché queste stelle più piccole hanno un'attività stellare pazzesca e quindi possono bombardare con dei flare di particelle ad alta energia questi pianeti e se ci fosse vita spazzarla via, almeno vita per come la conosciamo noi. Tutti questi studi e questa possibilità offerta da questi ultimi pianeti cosiddetti estremi che ci fanno, potenzialmente potremmo sapere anche di cosa sono composti, pongono delle domande sull'origine della vita. Ora, il campo degli esopianeti comunque è in piena evoluzione, però ci stiamo allargando e piuttosto che chiederci semplicemente se possiamo osservare un pianeta come la Terra, uguale alla Terra ad una distanza di una unità astronomica, cioè di un anno orbitale terrestre, 365 giorni rispetto a una stella come il Sole, quindi veramente un analogo terrestre, ci stiamo chiedendo se quali sono le domande alle quali noi dove, o quali sono proprio le domande da porsi a proposito dell'origine della vita. Cioè noi siamo in grado oggi come oggi di porci le domande giuste per poter poi rispondere adeguatamente e capire se eventualmente esiste o no vita al di fuori del nostro sistema solare. Ecco, c'è uno sforzo globale a livello mondiale di contaminazione tra scienza, biologia, astrobiologia, chimica, ma anche altre discipline che in realtà possono sembrare lontane come la filosofia, o addirittura ci sono adesso nei vari dipartimenti universitari dove ci sono dei gruppi di ricerca in esopianeti, si mettono insieme proprio dai film maker, per esempio io ho partecipato a uno di questi gruppi sull'abitabilità dei pianeti dove abbiamo fatto tutta una discussione partendo dal presupposto della visione nostra dei film come Alien, per esempio, quindi dell'immaginario nostro collettivo e da lì la nostra idea di come formuliamo le domande e di chiederci se queste domande sono in realtà quelle giuste. Mi spiego un pochino di più per chi non avesse capito. Per esempio, se io volessi definire la vita, quali sono le caratteristiche che potrei utilizzare? Una vita nasce, cresce, noi mangiamo, produciamo degli scarti, muoriamo e anche ci riproduciamo. Bene, se noi volessimo utilizzare questa struttura di caratteristiche per definire la vita, se noi l'abbiamo osservata mai altrove, per esempio un fuoco nasce, un fuoco cresce e si sviluppa, mangia perché brucia tutto quello che trova, ha degli scarti perché appunto gli scarti di quello che brucia, se volete si moltiplica perché in realtà può allargarsi quando si vuole e poi si spegne. Quindi un fuoco fitta, cioè quindi soddisfa questa definizione, questa struttura di definizioni, tanto quanto un essere umano che può essere definito come un essere che nasce, cresce, si riproduce, lascia degli scarti e poi muore. Quindi in realtà porsi le domande giuste è fondamentale per trovare delle risposte adeguate. Ecco, quindi diciamo, porre tutti questi studi e il perché alla fine è importante anche occuparsi di esopianeti, perché in realtà ci occupiamo di casa nostra, come ci siamo formati, da dove siamo venuti, la vita come ha avuto origine sulla Terra, ancora sono domande alle quali noi non sappiamo rispondere. E poi c'è tutta una parte che è come sarà la nostra evoluzione quando la stella Sole piano piano si spegnerà. Io personalmente mi sono occupata di questa parte di ricerca in cui ho proprio studiato le stelle morte, cosiddette, dopo la vita principale, quando esplodono, ok, e rimangono come degli oggetti piccoli come la Terra e si chiamano nane bianche, cosa succede al sistema planetario e cosa succede alla Terra? Sopravvive, non sopravvive, cosa succederà alla stella Sole? Ovviamente quando la stella Sole morirà, la parte esterna del Sole verrà persa, tutti questi pianeti verranno inglobati dentro quella che diventerà la stella Sole gigante rossa, questi pianeti più esterni sentiranno meno l'influenza della massa del Sole, si sposteranno in delle orbite più esterne, alcuni di questi potrebbero perdersi e non essere più attaccati al sistema solare, mentre questi verranno polverizzati. e noi quindi potenzialmente, probabilmente, quasi sicuramente, verremo polverizzati quando questo accadrà. Quindi è importante, è fondamentale fare questi studi appunto per sapere da dove veniamo, ma per sapere anche dove andiamo. Quindi come vi dicevo durante tutta questa puntata, l'importanza dello studio degli esopianeti è in realtà vicina poi ai temi che ci interessano di più, ai temi che riguardano non solo la ricerca scientifica, ma anche la nostra casa nostra, appunto come siamo arrivati qua, e perché siamo sul nostro pianeta e perché c'è questo pianeta che è abitato. Molti di voi possono domandarsi dove sono questi pianeti extrasolari che noi abbiamo scoperto, come dicevo, sono oltre 4.300 e per la maggior parte sono scoperti in stelle che stanno in questa zona vicino al nostro Sole, quindi nelle vicinanze del nostro Sole. Cosa intendo? Che all'interno della galassia, della nostra galassia, della Via Lattea, il Sole occupa una posizione particolare. Vicino, quindi, in termini di raggiungimenti tecnologici per noi, significa proprio nella zona dove si trova il nostro Sole. Ma quanti potenziali pianeti potrebbero esserci nella nostra galassia? Beh, facendo una stima grossolana potrebbero esserci tra le 200 e le 400 miliardi di stelle nella nostra galassia. Ovviamente non lo sappiamo di preciso, non è facile fare queste misure. Sappiamo però che ci sono più pianeti che stelle e che i pianeti si trovano proprio ovunque. Quindi, se ci sono oltre 400 miliardi di stelle, vi lascio a voi immaginare il numero potenziale di questi pianeti nella nostra galassia. Quindi, porsi delle domande su come noi siamo arrivati ad essere qui, su dove andremo e quindi quale sarà la nostra evoluzione, ma anche porsi delle domande sull'origine della vita e cosa significa cercare la vita utilizzando le domande giuste per trovare le risposte adeguate, è fondamentale perché direi che è quasi dal mio punto di vista scontato che esista vita nella nostra galassia. Ora, se voi pensate a una delle più belle immagini che il telescopio Hubble ci ha regalato negli ultimi 30 anni, è un'immagine che si chiama deep field, cioè i campi profondi. Cosa ha fatto Hubble? Ha preso un punto scuro, ok, del suo campo di vista e ha puntato per un sacco di tempo in quel punto scuro. Ora, voi se alzate una mano al cielo, prendete un'aria del cielo dove non vedete nessuna stella e prendete, fate proprio un pizzico così di dimensione, beh, in quel quadrato ci sono miliardi e miliardi di galassie che contengono miliardi e miliardi di stelle in un puntino così nel cielo. Ora, voi immaginate la vastità del cosmo, potete, cioè è quasi difficile, diciamo, non essere un pochino, diciamo, sorpresi dalla possibilità che la vita in realtà esista. Una cosa però che mi preme anche chiarire è che questi pianeti che noi abbiamo scoperto orbitare intorno ad altre stelle sono dei pianeti che si trovano a delle distanze in anni luce di almeno qualche centinaio di anni luce per la norma. Uno tra quelli più vicini che orbita intorno a Proxima Centauri è quattro anni luce. E voi potete pensare, alcuni lo stanno facendo in realtà, di prendere e andare su questi esopianeti se mai ne troviamo uno abitabile. Beh, direi che è quasi science fiction. Se pensate alle difficoltà che possiamo avere adesso per ritornare sulla Luna entro il 2024, come annunciato dalla NASA con la famosa missione Artemis, di cui l'Italia partecipa in grandissima parte, le difficoltà sono tante, non solo per i costi, ma proprio per la logistica, come si sopravvive tanto tempo fuori nello spazio, come si fa a fare in modo di coltivare delle piante nello spazio, dove si trovano le materie prime, come si raccoglie l'acqua, come si genera un'atmosfera per noi respirabile e possa andare avanti per secoli. Ora, la stessa cosa se voi pensate ad andare su Marte, non solo la difficoltà di restare su Marte, ma anche la difficoltà di andarci. Ecco, pensare di arrivare su un esopianeta è direi utopistico, proprio perché anche se viaggiassimo alla velocità della luce, cosa impossibile, ci metteremo dei tempi lunghissimi. Quindi questo, non solo è importante capire che questi esopianeti, anche se ne trovassimo uno uguale alla Terra, anche se lo trovassimo abitato, anche se lo trovassimo abitato da degli esseri umani simili a noi, si parla di cose impossibili da raggiungere. E quindi questo mi porta a dire che dobbiamo sicuramente fare attenzione al nostro bellissimo pianeta abitato, l'unico finora che conosciamo e dobbiamo mantenerlo il più possibile. E quindi questo ci porta, lo studio alla fine degli esopianeti ci porta proprio anche ad una visione, se volete, magari dall'esterno verso l'interno, a pensare un pochino di più alla bellezza e alla salvaguardia di casa nostra. Quindi fare ricerca pura, così chiamata, una di quelle delle materie dure, perché è importante? È vero che negli ultimi anni c'è una spinta fortissima alla commercializzazione, all'innovazione tecnologica, e voi lo avete, voglio dire, sotto i vostri occhi quotidianamente, dalle ultime app per i cellulari alla tecnologia assistita per tantissimi ambiti della vita che proprio aiuta. Bene, quelle sono fondamentali, ma la ricerca pura, quindi la ricerca nel mio caso viene chiamata blue sky, cioè proprio il cielo, è fondamentale perché è generatrice di nuove idee. Se uno non fa ricerca pura, non ha la possibilità di generare nuove idee. La ricerca pura è senza scopo, quindi a 360 gradi. Poi le nuove idee che nascono e generano e si formano dalla ricerca pura hanno una vastità di applicazioni pazzesca. Faccio un breve esempio, giusto per giustificare perché vi dico l'importanza di fare ricerca e quindi l'importanza di avere dei ricercatori come me che fanno ricerca. Per esempio, un software sviluppato per l'analisi di immagini di campi di stelle è poi stato fondamentale per lo sviluppo dell'analisi delle immagini della risonanza magnetica, quindi la capacità di scoprire i tumori nelle persone. Ecco, se non avessimo avuto la possibilità di sviluppare questo tipo di software nelle immagini di astrofisica, magari ci sarebbe voluto più tempo per fare queste immagini di risonanza magnetica. Ecco, quindi uno non sa da dove viene l'innovazione tecnologica, ma si sa che la generazione di idee viene dalla ricerca pura. Quindi mi sento di cogliere questa occasione oggi per raccontarvi e per rinforzare il bisogno di parlare di ricerca, di bisogno di farlo anche a casa nostra, dove l'Italia in realtà investe pochissimo sulla ricerca pura e siamo per questo un po' il fanalino di coda tra i paesi europei, sicuramente. E quindi io poi ne incarno, se volete, anche la rappresentazione perché faccio ricerca, ma sono una ricercatrice precaria. Ecco, quindi ci vorrebbe un po' un cambio di cosiddetto paradigma, questa parola che piace tantissimo a tanti. Bisognerebbe cambiare un pochino la struttura, diciamo, di questo sistema. Ora, io vi ho parlato oggi di questa bellissima esperienza mia di ricerca, questo bellissimo viaggio che vi ho fatto fare all'interno del nostro Sistema Solare e in altri sistemi. Io mi occupo di ricerca in esopianeti ormai da oltre 12 anni e l'ho fatto più che altro il mio percorso di ricerca in università stranieri in Inghilterra, in diversi luoghi e, diciamo, ho sempre fatto ricerca partecipando a uno dei progetti che ad oggi è ancora il progetto di maggior successo nella scoperta di esopianeti con osservazioni da Terra, non da satellite. Si chiama WASP, che sta per Wide Angle Search for Planet. Se voi andate su, basta che mettete su Google questa parola, vedrete la miriade di pianeti che sono stati scoperti. E io ho avuto la possibilità di partecipare attivamente e non vi nascondo che sicuramente quando vado nelle scuole a raccontare della possibilità di fare ricerca e a raccontare ai ragazzi che questo è una carriera possibile, racconto proprio la bellezza di fare ricerca e la gioia che c'è nella fare una scoperta, perché quando uno si siede in questi osservatori e già devi, diciamo, operare dei telescopi che sono anche 4 metri, alcuni sono anche 10 metri, ok, quelli 10 metri non te li fanno toccare, però quelli più piccoli sì, proprio devi andare lì con le mani, devi proprio prendere l'azoto liquido e versarlo con le tue mani dentro il criostato per renderlo alla temperatura giusta, per fare le tue osservazioni. E poi devi muovere tutte queste belle leve che esistono, perché questi telescopi, magari quelli più piccoli, sono datati di oltre 150 anni, però è bellissimo perché si mettono proprio le mani e proprio punti verso queste stelle e attendi, attendi le tue misurazioni. Quando vedi che questi punti che tu stai raccogliendo proprio seguono quella curva che tu desideri che seguano, beh, allora fai un salto sulla seggia perché hai scoperto un pianeta. Nella collaborazione con tantissimi ricercatori ho avuto la fortuna di lavorare insieme al Prebio Nobel alla Fisica 2019, Didier Kelo, di cui vi ho raccontato prima, cioè quello che ha scoperto quel primo esopianeta. Bene, lui faceva il suo dottorato di ricerca e un po' perché ancora non era proprio così dentro le teorie e un po' proprio per quello che è la maggior parte delle scoperte scientifiche nel modo in cui avvengono, cioè per casualità. E lui osservava proprio, come ho fatto io, come ho fatto tanti, queste stelle, però lui si aspettava che questa stella fosse in realtà piatta, cioè di vedere questi punti che si allineavano su una retta, ok? Proprio questo era quello che voleva osservare. Mentre quello che osservava era che questi punti si muovevano. E nella sua, diciamo, ignoranza all'epoca, ma non perché era una persona ignorante, proprio perché mentre uno fa il dottorato di ricerca impara mentre sta facendo, ancora non era avvezzo così tanto le teorie di formazione planetaria. E quindi nella sua inconsapevolezza ha seguito un'altra volta questa stella, misurandola diverse volte. Bene, la seconda e la terza volta ha visto che questi dati che non si allineavano non erano per caso, per un problema del sistema operativo che si utilizzava, per un problema del telescopio, per un problema di presa dati che non era adeguato, erano proprio reali. E si sono, si è reso conto piano piano che in realtà erano periodici questi dati, cioè cambiavano con un movimento sempre uguale nel tempo. E questo permise di scoprire il primo esopianeta. Ecco, appunto, per caso, lui lo racconta sempre. Però è proprio il bello della ricerca è proprio fare questo, andare in un campo inesplorato, mettersi in gioco, sapere che si fallirà, perché questa è una cosa che tutti gli scienziati fanno. Anzi, si fallisce 99 volte su 100. Uno va a osservare e non vede niente, va a osservare e non vede niente, va a osservare e non vede niente. E poi c'è quella volta che in realtà scopre il pianeta. Ecco, lì è la bellezza. Però il fallimento è parte integrante della scoperta. Non c'è scoperta se non ci sono 100.000 fallimenti prima. Quindi bisogna proprio mettersi in gioco. E qui è importante la ricerca. Io, appunto, ho lavorato in Inghilterra per tantissimi anni dove ho preso il mio dottorato di ricerca. Prima ho guadagnato un master all'Università Postabattie di Tolosa dove ho incontrato la professoressa Caraveo e il professor Giovanni Bignami che è stato anche presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana. E quindi ho avuto modo di lavorare fin da subito dopo l'università su questi grandi temi. Ora sono all'Università di Urbino e continuerò la mia avventura, spero, con una preghiera di pensare di investire sulla ricerca. Quindi vi ringrazio tutti per essere stati ad ascoltarmi e ringrazio il Circolo Bianchini per avermi invitato qui a Fano a fare questa bellissima, diciamo, chiamiamola lezione sugli esopianeti, ma un po' una storia, un racconto di una storia. E spero di avere un'altra opportunità per raccontarvi qualche altra bella storia. Grazie mille. Grazie mille.